Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono CiccioGabrio03 e oggi sarà un video breve, vi volevo parlare della mia crew abbiamo creato una crew con dei miei amici e con un componente della Variety Gaming il nome della crew sarà Eccezionale Crew, perché ci piacciono molto le auto goal e la formerò con un componente della Variety Gaming andate a vedere il loro canale che è stupendo e con altri miei amici e faremo dei video su FIFA che poi porterò nel mio canale quindi mi raccomando, pollicioni in su e spero vi piaccia tutto quello che faremo io sono qui per farvi divertire, non per far vedere anche chi sono io ma comunque per farvi divertire, ciao!